Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente si registrano ancora 4 km di coda tra Badia e Aglio in direzione Roma. Sempre in direzione Roma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisare Gello. Code a tratti per traffico intenso anche in direzione Bologna tra Calenzano e Il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla FIPI lì dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze e tra Ponte dell'Est e Ponte dell'Ovest e Ponsacco in direzione Mare. Rallentamenti invece per traffico intenso tra Scandici e Firenze Scandici verso Firenze. Treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra Campo di Marte e San Marco Vecchio. I treni potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!